Io sono Flavio, ho compiuto da poco, ho 44 anni. Nella vita sono ingegnere libero professionista, mi occupo di sicurezza sul lavoro. Perché sei venuto a Roma Center Climb? Sono venuto a Roma Center Climb perché mi sta a circa 900 metri da casa. Cosa cercavi? Cercavo una palestra di arrampicata dove imparare, perfezionare una parte della tecnica di salita in montagna che non conoscevo e che ho imparato qui. Visto che sono un appassionato di montagna, diciamolo. Cosa hai trovato? Ho trovato una bellissima atmosfera dove poter perfezionare la qualità, l'interesse, la passione e un ottimo percorso di formazione. Lo consiglio assolutamente sì. Lo consiglierei a tutti coloro che vogliono sperimentare una tecnica sportiva che ti dà non solo lo sport ma anche il coinvolgimento emotivo. Sei contento? Molto, molto contento.